Fammi capire, Goku, perché vuoi ottenere una forza maggiore di quella che hai? Vi aspetto in un cinema, in un cin... Ah, questa la devo dire qui. Come la terra dei ghiacci. Diabolico Fritz, vuole sempre mettere le mani sulle sfere del drago. Vi aspetto dal 28 febbraio in un cinema del circuito unici per il film... Dragon Ball Super Broly, il film più potente di tutti gli universi. Non ho idea di chi sia, ma la sua aura è pazzesca. Nessuno riuscirà a fermarmi. Parola di Broly. E per chi spoglierà? Kamehameha! Sta diventando ancora più forte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.